Il rinvenimento di una tomba a Battipaglia, che pare possa essere fuoriero della scoperta di una necropoli, sta facendo molto discutere la città. Nel merito entrano i ragazzi del forum dei giovani che scrivono una lettera aperta alla sindaca a Sicilia Francese e a tutta l'amministrazione, nella quale chiedono l'attivazione di un museo permanente in città. Da sempre, dicono, noi battipagliesi siamo abituati a dire che la storia della nostra città è giovane e che dunque non ha radici antiche, ma le recenti scoperte ci spiegano che così non è. Una comunità si sente tale quando conosce le proprie origini, quando sa da dove viene, perché questa è una precisa esigenza dell'uomo, e cioè sapere da dove si viene per sapere dove si va. Essere venuto a conoscenza di avere una storia che parte dal III secolo d.C. ha risvegliato nei cittadini un entusiasmo collettivo che da tempo ormai si era perso. Alla luce delle premesse, aggiungono i rappresentanti del forum, chiediamo all'amministrazione comunale di avviare un tavolo tecnico che lavori per l'allestimento di un'esposizione permanente dei reperti rinvenuti sino ad oggi e di quelli che eventualmente emergeranno in futuro qualora gli scavi dovessero proseguire. E' dovere di tutti noi e di chi amministra, concludono, di tramandare alle nuove generazioni questa nostra storia. La richiesta, oltre al tavolo, è quella di lavorare affinché venga realizzato il museo, con la finalità di far rimanere sul territorio ed in città i reperti affinché vengano ammirati o soffruiti in primis dai patti paesi e poi da tutti gli altri. Un modo questo per incrementare il turismo in città.